Ciao, ciao a tutti, bentornati, benvenuti sul canale. Oggi video haul gigantesco dei regali di compleanno che ho ricevuto. Ebbene sì, la Eli ha compiuto gli anni il giorno 26 maggio, 52 anni, e sentirli tutti. A parte gli scherzi, no, non è vero, come spirito io mi sento ancora la 35enne, quando è nata Lucia, ma domani la Lucia compie 18 anni, quindi non ho più 35 anni, ma ce ne ho 52. E siamo qui, per fortuna, io dico per fortuna, siamo qui. Ebbene, ho ricevuto tantissimi, tantissimi, tantissimi regali, alcuni suggeriti da me stessa medesima, altri totalmente indovinati dalle persone che mi vogliono bene. e nulla, quindi io oggi vi farò vedere velocemente perché non ho praticamente provato nulla tranne un prodotto che poi vi farò vedere, miracoloso per me, che fa parte del regalo della mia mamma che mi sono autofatta, cioè nel senso ho chiesto alla mia mamma, mamma va bene se mi faccio il tuo regalo di compleanno, la mia mamma che ovviamente acconsente sempre perché anche se me ne dice di tutti i colori comunque mi vuole bene e si è ormai abituata alle mie passioni del momento e quindi mi accontenta sempre. E vabbè, d'altronde sono figlia unica, chi deve accontentare? E nulla, partiamo. Allora, partiamo dal regalo della mia Lucy che è sempre molto attinta e visto il regalo della festa della mamma che mi aveva fatto della crema viso anti-aging al melograno di Bioease Nature ha pensato di continuare tutta la linea e mi ha regalato la crema corpo antiossidante e idratante al 98% di ingredienti naturali ragazze, il profumo del melograno si sente a tubo chiuso e sigillato è buonissimo io non so se anche voi come me quando vedo i prodotti delle amiche sui video mi avvicino e mi sembra di sentire il profumo ecco, spero che sia così anche per voi perché questa è profumatissima allora, la crema corpo antiossidante alla melagrana Bio Green Selection è un trattamento multivitaminico intensivo ti tiro giù che così non si vede la pappa gogia efficace e idratante che lascia la pelle piacevolmente profumata è vero, lo sento già da qui ed ha una freschezza per tutto il giorno è adatto ad un uso frequente e ad ogni tipo di pelle olio di nocciolo, di mandorle e di oliva da piante coltivate in Italia in agricoltura biologica più del 98% di acqua purificata e ingredienti di derivazione vegetale 0 silicone, 0 parabeni, 0 petrolati, 0 SLS e 0 acrilati mi sembra veramente ottima io questo brand, questo marchio l'ho già provato mi sono trovata benissimo con un'altra crema corpo quella alla pesca e al pompelmorosa se non ricordo male che era buonissima ma questa profuma al barattolo veramente e quindi bellissimo regalo secondo mi ha comprato anche il doccia gel della stessa linea e anche qua mamma mia che profumo è buonissimo poi siccome sa che io amo le saponette guardate che carino sono tre saponette lei sa che mi piacciono perché io allora le saponette le uso per lavarmi le mani è l'unica cosa che mi lavo con le saponette ma a me piace come mi ha insegnato la mia mamma metterle nei cassetti della biancheria e che mi profumano la biancheria poi quando ho bisogno di una saponetta la tiro fuori dal cassetto e la utilizzo però diciamo l'uso principale delle saponette per me è quello di mettere nei cassetti della biancheria e profumare la biancheria allora qui dentro ci dice dall'antica tradizione saponaria saponi si non vedo niente rifaccio dall'antica tradizione saponiera italiana un sapone vegetale extra fine formulato con olio di oliva ed olio di mandorla dolce ricchi di sostanze nutrienti ed emollienti che lo rendono particolarmente indicato per perli secche e mature secche no ma matura si la schiuma densa e cremosa deterge dolcemente viso e corpo lasciando una sensazione di pelle morbida fresca e setosa e c'è un concentrato oltre che di olio di oliva e di olio di mandorle di spezie varie spezie tipo la cannella e il limone e si sente tantissimo si sente tantissimo è veramente buonissimo ed è bellissimo grazie alla mia Lucy riponiamo nel sacchettino un bel sacchettino che ho scritto auguri che ha riciclato dal mio cassetto questi poi io li tengo sempre quando mi fanno i regali così si possono riciclare e non li buttiamo via secondo pacchettin paccheton perché guardate qua che paccheton gigantone allora la mia amica e collega perché tante volte io dico collega ma le colleghe almeno per il mio punto di vista sono principalmente amiche tenete conto che io lavoro da 34 anni nella stessa azienda che è un'azienda a gestione familiare della mia zona ho cominciato a lavorare lì a 19 anni e sì 19 anni quindi va bene 33 anni non 34 e lì sono ancora insomma facendo vari passaggi nei vari uffici e quindi le mie le mie colleghe sono le mie amiche principalmente perché all'inizio prima di avere i figli lavoravo 8 ore e passavo più tempo con le mie con le mie colleghe che a casa insomma e abbiamo vissuto tante bellissime esperienze insieme le abbiamo vissute anche di brutte tanti dolori che abbiamo condiviso quindi sicuramente quando dico collega io intendo amica collega perché siamo di rimpettaie di scrivania ed è così ma intendo intendo proprio amica e Lella è una mia amica che in questo ultimo anno mi ha seguito nella mia roccambolesca passione per la cosmesi per il beauty si è appassionata anche lei infatti sta sperperando le sue fortune sui siti online e nulla e quindi mi ha fatto un regalo veramente mirato centrato di una persona che mi conosce e mi conosce molto bene allora il primo regalo è questa bellissima caramellina di Yves Rocher e all'interno troviamo una matita per per gli occhi nera un smaltino brillantinato che non userò perché al momento ho il semi permanente ma non si sa mai quindi lo teniamo lì perché è carino tutto brillantirato brillantinato molto molto estivo tutto bello dorato e un illuminante per il viso e il décolleté e anche questo è abbastanza scintillante quindi perfetto per l'estate lo apriamo vediamo uh purga qua splendido di dorata e non si vede perché poi oggi è così facciamo così sì è brillantinato ma non troppo invasivo insomma perfetto per una 52 per una vecchietta come me ok oggi sono scarpigliata devo andare dal parrucchiere settimana prossima ho lavato i capelli ma si vede abbastanza la ricrescita continuerò col mio color biondo bianco che a nessuno piace piace solo a me mia mamma non vi dico i commenti e vabbè chi se ne frega ho deciso a 52 anni di fare solo quello che mi piace finalmente poi mi ha regalato di bottega verde questo bagno doccia con estratto di vaniglia alla vaniglia nera che ragazze è profumatissimo profumatissimo mamma mia e tra l'altro questo allora penso sia più adatto per l'inverno perché è un profumo veramente molto molto intenso molto buono anche volendo unisex quindi secondo me questo potrebbe potrebbe essere che lo usa anche Paolo perché lui non usa i miei prodotti ai fiori e tutte queste cose però questo è veramente intenso molto che buono autunnale invernale quindi questo lo terremo lì per il prossimo autunno e lo useremo molto molto bello poi abbiamo latte corpo limone e agrumi sempre di bottega verde questo mi dà l'impressione che sia veramente molto molto fresco e perfetto per quest'estate ciao la scrittura dietro allora ricca crema per il corpo piacevole sulla pelle con note briose e fresche ispirate alle fragranze del limone e delle arance di sicilia perfetto questo secondo me è perfetto proprio per l'estate quel profumo che ti dà l'energia per arrivare alle vacanze di agosto poi scrub viso all'aloe sempre di bottega verde e questo devo tenerlo nascosto perché secondo me me lo frega la Lucy indicato per tutti i tipi di pelle esfoliante e rivitalizzante con 20% di succo di aloe bio il resto non lo riesco proprio a leggere però io con i prodotti di bottega verde a parte uno soltanto che poi nei prodotti finiti vi avevo già fatto vedere ma ho trovato un modo per riutilizzarlo non mi sono trovata bene solo con quello per il resto mi sono sempre trovata bene anche Lucia sta usando dei prodotti che gli avevo comprato e si sta trovando molto molto bene poi si specchia si l'oreal rivitalif laser per 3 formato speciale prezzo irrinunciabile trattamento profondo anti età e qua ritorniamo alla mia vera età una crema da giorno che corregge ridensifica e rimodella devo dire che di questa ultima linea di l'oreal sto sentendo parlare molto molto bene e quindi queste saranno tutte delle cremine che andranno nelle scorte e appena arriverà il momento io lo proverò poi balia questa arriva dalla nostra scorribanda al DM che ho fatto sempre con l'Alella la mia amica collega lei presa cioè perché io ero presa all'assalto degli scaffali ma anche lei perché ne ha prese tre quindi ha pensato bene di regalarmene una che io ho accettato molto molto volentieri e proveremo questa fantastica crema corpo di cui ho sentito parlare bene anzi tra qualche giorno siccome domani Lucia compie gli anni le avevo promesso che ai 18 anni saremmo ritornati al DM ritorneremo ritorneremo poi questo stick labbra della bioniche bioniche è una marca che amo tantissimo che apprezzo ho usato alcuni alcuni prodotti mi piacciono mi piacciono tanto e quindi niente anche questo lo proverò sicuramente e poi potevano mancare ma potevano mancare no maschere viso yuhu allora questa maschera visage alici come si chiama questo frutto sapete che io non l'ho mai provato perché mi fa un po' senso ingredienti al 95% naturale una maschera idratante e illuminante e l'alella ha centrato vabbè questa è inutile che ve la presenti perché sapete che per me al momento sono le numero uno queste sono buonissime questa tra l'altro ne ho fatta una l'altra sera è veramente buona 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 sono tutte ottime ottime e questo era il secondo pacchettino ma veniamo al regalo della mia mamma che ho stata brava ragazzi ho acquistato addirittura a Pasqua ho fatto questo ordine su nuvole blu il bellissimo e-commerce di Elisa che non finirò mai di ringraziare per la sua gentilezza per la sua competenza e devo anche ringraziare Simona di Beauty Passion che me l'ha fatta conoscere perché se non conoscete Simona di Beauty Passion andate a conoscerla perché i suoi haul di prodotti cosmetici sono una meraviglia è Natale tutte le volte che guardo i suoi video dai suoi video appunto ho conosciuto Elisa sono andata a vedere il sito mi è piaciuto molto ha tantissime referenze sempre dei prodotti scontati anzi se poi andate c'è il reparto che ha gli sconti fino al 60% ci sono veramente delle chicche imperdibili e a me per Pasqua era arrivato uno sconto cospicuo del 30% avevo segnato dei prodotti che volevo provare ma vabbè ne ho già tanti ne ho comprati tanti non vi ho ancora fatto vedere tantissimi haul perché mi vergoglio i prodotti che ho comprato comunque fa niente facciamo quello che ci piace e quindi nulla proprio grazie a quello sconto ho deciso di approfittarne anche perché vabbè era il mio compleanno ho chiesto a mia mamma se poteva contribuire a questo regalo e ha contribuito totalmente a questo regalo e vi faccio vedere le meraviglie che ho comprato una sola referenza ho provato perché avevo finito il contorno occhi e ve la faccio vedere per prima perché ragazzi mi sono stampata anche le schede per raccontarvi proprio due cosine ma poi ne parleremo nei preferiti perché questo contorno occhi per me per me Valsecchi Elena 52 anni è miracoloso e andrà sicuramente nei preferiti dell'anno ma probabilmente nei preferiti della vita allora aspettate che vado vi leggo due proprio due cosine eccolo allora ho voluto acquistare perché ne ho sentito parlare non bene ma ancora di più la crema Supreme e il contour di Eteria Eteria penso la conosciate assolutamente tutti è un brand molto famoso italiano che fa dei prodotti buonissimi con ingredienti naturali e nulla all'inizio volevo volevo comprare il contorno occhi di Kiehl's non ho avuto l'occasione di trovarlo a un prezzo abbordabile ma poi comunque mi ero concentrata su altre cose quindi ho lasciato perdere lo ricomprerò perché anche di quello ne ho sentito parlare benissimo ho messo in uso questo contorno occhi lo uso soltanto alla sera in combinazione con il siero occhi liftante di Nakomi altro prodotto che ho comprato su su nuvole blu altro prodotto super 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 consigliato da Simona e devo dire che la combo del siero occhi che poi vi farò vedere e di questo di questa crema a me ha fatto miracoli allora io non ho guardate che meraviglia adesso ve la faccio vedere ha una consistenza morbida non direi densa si assorbe benissimo ha un profumo a me ricorda il latte anche se non è vero non ci sono ingredienti di latte però ha un profumo delicatissimo morbido un profumo morbido anche il profumo è molto nutriente molto nutriente la la sentite ma non pesante molto nutriente ma assolutamente non vi appesantisce io alla sera ormai sono quasi tre settimane che la sto usando e vi devo dire che alla mattina quando mi sveglio con la combinazione del siero i miei occhi sono riposati non sono più gonfi le occhiaie anche se io devo dire la verità non ho delle occhiaie molto pronunciate molto scure però capita che magari non dormo di notte mi sveglio frequentemente e quindi sono un po' scure io in tre settimane ho trovato dei miglioramenti effettivi delle occhiaie della ridensificazione si dice delle rughe si sono minimizzate tantissimo tenete sempre conto che il mio contorno occhi nonostante io abbia 52 anni non è un contorno occhi che ha delle rughe molto evidenti e molto profonde però ci sono insomma ci sono per me questo prodotto lo so che non esistono prodotti miracolosi ma per me il fatto di poterlo mettere sempre tutte le sere perché lo sappiamo benissimo che i cosmetici hanno il loro effetto fino a quando li si applica quando voi non li mettete più l'effetto del cosmetico non c'è più perché non è una cura non è un medicinale ma devo dire che questo è un signor contorno occhi io con lo sconto l'avevo pagato 26 euro se non ricordo male e li vale tutti 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 anche perché tenete conto che ce ne sono 15 ml mi pare esatto e vabbè io sono tre settimane che ne uso ma non ne uso poco faccio una specie di maschera tutte le sere e sicuramente non dico che arrivo alla fine dell'estate ma insomma quasi perché è così buono perché contiene idrolato di camomilla che è calmante e lenitivo poi ci sono i peptidi che sono liptanti e antirughe questo lo sappiamo il muro di carité che è nutriente cicatrizzante elasticizzante la vitamina E in alte percentuali che sappiamo benissimo che è un antirughe la caffeina che è stimolante il betaglucano il bisabololo e questo mi dico anche quando bisabololo e il pantenolo che sono emollienti lenitivi e riempitivi estratto di avena di liquirizia di rosa canina proteine idrolizzate di grano e soia e la cera candelilla che è una cera vegetale io vi devo dire la verità per me è ottimo se volete un ottimo contorno occhi non un buono un ottimo contorno occhi fateci un pensierino per me ne ho sentito parlare benissimo e non ho mai sentito una recensione negativa ma ho potuto constatarlo sul mio occhio 52enne buonissimo e questo era il primo che vi volevo far vedere poi sempre colpa di Simona Simona è colpa tua colpa tua allora la Simo è un amante di tutto di Sieri di Creme Corpo di Balsami Corpo e quando ha presentato i migliori mi pare Creme Corpo Balsami Corpo questo se non ricordo male era era dentro sempre di eterea Lux Creme Sorbet Body e io non ho potuto fare a meno di prenderlo e vediamo se riesco a trovare vediamo 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 no no mi sa che non l'ho proprio neanche stampato ma comunque ve lo ah no ma non l'ho stampato perché forse c'era scritto ma non vedo niente vediamo ok leggera e delicata emulsione per il corpo ad alto potere idratante lenitivo ed illuminante ideale come trattamento quotidiano rinfresca e rigenera la pelle rendendola morbida e vellutata a base di un complesso di attivi altamente nutrienti e addolcenti quali oleolito di calendula che vabbè sappiamo che la calendula è cicatrizzante lenitiva buonissima che esplica un'azione emolliente rivitalizzante cardosperum non vedo niente alicabum che normalizza e protegge le pelli più sensibili rinforzando la barriera putanea estratto di fico di india e gemma orizzanolo e gamma orizzanolo non vedo niente dall'intensa efficacia antiossidante proteggono da foto invecchiamento e dallo stress ossidativo allora lei ne ha parlato benissimo dicendo che comunque era un prodotto molto leggero che si assorbiva velocemente e io ho pensato che per l'estate sarebbe stato perfetto visto il caldo e magari la non voglia di continuare a spalmarsi il prodotto fino all'assorbimento non l'ho ancora messo in uso perché in questo momento sto utilizzando lo spray che avevo comprato di Bio Point che mi piace tantissimo leggero settificante si assorbe in uno zic ma alla fine quando l'avrò finito sono quasi alla fine sicuramente inizierò questo e grazie Simona per avermi indotto all'acquisto mi pare sempre Simona è lei che mi ha fatto fare tutti questi peccati sappiatelo allora burro struccante ai frutti rossi è un burro struccante che utilizziamo nella doppia detersione adesso io ne ho uno in uso che per me è fantasmagorico non ricordo il nome perché è un prodotto coreano che ho acquistato proprio all'inizio di questo mio percorso di rinnovazione ma poi io non riesco a fare a meno del burro struccante anche se fa caldo cioè tra l'olio e il burro ho anche un olio in uso comunque tra il burro e l'olio preferisco preferisco sempre il burro mi sembra più coccoloso poi il periodo cioè adesso appena lo si mette sulle mani si scioglie diventa morbidissimo mi piace l'olio il burro struccante mi piace quindi questo è un altro prodotto questo è di bio officina toscana e anche questa è un'azienda italiana di cui ho sentito parlare benissimo e poi vi dirò insomma li proverò tutti pian pianino queste cose e devo campare altri 52 anni perché altrimenti non posso smaltire tutte le scorte che ho e poi vi saprò dire poi ho preso un altro contorno occhi perché ho detto se quello lì finisce prendiamone un altro allora le recensioni sul sito di Elisa erano buone io adesso non ricordo se ne ho sentito tanto parlare ma non tantissimo però mi sono mi sono fidata e niente ho voluto comprare anche questo crema contorno occhi per pelli da rigenerare rivitalizzante rigenerante levigante esercita un'azione protettiva levigante sul contorno occhi grazie a pregiati oli vegetali allora l'eufrasia ha un effetto calmante il biocomplesso LL con formulazione completamente vegetale in attesa di brevetto dona la pelle visibile visibilmente più rende la pelle visibilmente più elastica e vitale tollerabilità ed efficacia scientificamente confermate senza derivanti di oli minerali prodotto vegetariano ecco quindi se magari c'è anche qualcuno che predilige questi prodotti questa potrebbe essere un'ottima soluzione questo proprio come vedete non l'ho neanche aperto guardiamo almeno la confezione eccolo qua carino un piccolo bottino guardate che carino niente questo non lo apro per non rovinare il paolo ma poi sicuramente vi saprò dire ah non vi ho detto che il capitano che chi mi segue nei tempi del blog sa che il capitano è mio marito Paolo ha preso il covid quindi è relegato in taverna noi stiamo tutti bene per il momento non abbiamo nulla dobbiamo tenere tutte le protezioni quando usciamo è tutto però va bene lui vive giù c'è giù la cucina c'è tutto quindi dorme nella camera di Pietro e niente però sta abbastanza bene ha un po' di di influenza mal di gola un po' di tosse un po' di mal di schiena nulla di preoccupante per fortuna però insomma questo colpo di coda l'abbiamo preso nonostante siamo tutti vaccinati e va bene l'importante è star bene poi tanto vi racconto di me sapete che io non sono capace di far vedere solo i prodotti o di recensire per quello che possono essere le mie recensioni altro prodotto che se non ricordo male era stato consigliato da Sara Sara Cosmesi anche lei se non la conoscete andate a a vedere il suo canale perché davvero ci sono tantissimi consigli tantissimi prodotti lei utilizza moltissimi sieri molte creme quindi vi vi da sempre una panoramica molto grande molto illuminante di di quello che c'è nel nel mondo della Cosmesi questa io l'ho presa perché crema gel viso alla malva come crema giorno perché sto anzi ho finito praticamente manca proprio una o due applicazioni la crema Venusource mi pare che si chiama quella rosa idratante di oh mamma non mi ricordo avete capito dopo mi verrà in mente non diaven ma si può va bene non mi viene di Codalie Codalie scusatemi ma ai 52 anni la memoria comincia a sparire di Codalie che mi è piaciuta tantissimo ma veramente tantissimo e molto leggera si assorbe in un buff e volevo una crema altrettanto leggera che potesse ecco essere utilizzata d'estate con il caldo questa mi è sembrata perfetta una crema gel fresca leggera e delicata ed è la ideale per donare idratazione alla pelle ma non ho stampato niente qua mi sembra anche il film oh Santa Virgine eccola qua si l'ho stampata che almeno vedo di più allora l'acido ialuronico a peso molecolare differenziato in sinergia con le mucillagini di malva biotoscana che assicurano un effetto idratante e lenitivo io ho un amore e odio con la malva perché il mio papà era un po' un mago uno stregone a lui piaceva andare a raccogliere le erbe spontanee e fare gli oleoliti fare tutte sia diciamo gli infusi con l'alcol sia negli oli e devo dire che con tutte le sue misture io non so se erano effettivamente cioè io ho risolto veramente tante cose e ricordo che la malva me l'ha fatta bere a litri gli infusi di malva quando avevo il mio ciclo mal di pancia e queste cose perché era disinfiammante ed effettivamente è vero quindi lui mi faceva la tisana di malva che vabbè non è che ha proprio un sapore buonissimo cioè questa mucillagine rimane una tisana un po' geldosa però devo dire che calmava calmava veramente i dolori e disinfiammava disinfiammava tantissimo poi lui per disinfiammarsi era il mago perché quando doveva andare a fare gli esami del sangue faceva 15 giorni di cura sua dove non beveva più non fumava più non mangiava più cose piccanti quindi quando andava a fare gli esami del sangue gli esami del sangue erano perfetti però anche grazie a tutte queste sue queste sue misture quindi quando ho visto questa crema mi è tornato in mente il mio papà che ho detto vabbè la malva sicuramente faceva bene e ho voluto prenderla ma sono sicura che sia buonissima poi vi dirò quando la metterò in uso prodotto invece che ho comprato di mia sponte perché ne avevo provati due campioncini che mi aveva regalato sempre Elisa del sito Nugole Blu questo Time Miracle Hydra Firm non so come si dica concentrato di gel ialuronico e devo dire che con i campioncini che avevo provato mi ero trovata benissimo sto finendo il booster di Bici Mineral 89 e questo sicuramente lo va a sostituire appena finisce perché l'avevo provato mi era piaciuto tantissimo veramente tantissimo è consigliato per le pelli Agé e quindi nulla ragazzi questo ve ne parlerò prestissimo perché sicuramente e come ultimo ho preso questo booster illuminante di Pulp de Vie ingredienti al 100% di origine vegetale e anche questo ve lo lo ho segnato lo ho stampato cioè vediamo eccolo qua allora questo ha ingredienti 100% naturale e certificato Cosmos Organic è di questo colorino arancioncino quindi è sicuramente un concentrato di vitamina C antiossidante e illuminante poi ha l'acqua di amamelide che è astringente e antiossidante quindi è perfetto per la mia pelle mista grassa olio di prugna antiossidante elasticizzante olio di olivello spinoso che sento sia miracoloso io non lo conosco molto però è un anti-age un anti-rug un anti-ossidante estratti di carota timo e rosmarino che sono astringenti e antiossidanti pigmenti illuminanti effetto luce illuminante speriamo che non sia troppo illuminante e l'acido ialuronico che vabbè io amo 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 che è idratante e rimpolpante quindi anche questo sto finendo un altro siero la vitamina c che vi avevo mostrato in alcune foto su instagram perdonatemi ma io sono veramente alla vecchia maniera nel senso che non trovo instagram cioè faccio fatica sto imparando a usarlo ma faccio veramente fatica non lo trovo consono per me come social lo so che ho anche una certa età questa non è una battuta nel senso che sicuramente i ragazzi giovani lo trovano immediato riescono a fare i video riescono a fare i reel io sono in branata non mi piace andare in giro facendo i video per la città perché mi sento una deficiente e e io poi io apprezzo tantissimo i video che trovo ma io mi sento così cioè mi sento osservata e quindi non mi trovo a mio agio quindi sto cercando di impararlo sto cercando di mettere su qualche cosina però faccio veramente fatica quindi apprezzate la mia buona volontà e quindi questo lo metterò in uso ho finito no non ho finito tutti i prodotti ne avevo un altro che non ricordo dove ho messo ecco e là mi assento vado a prenderlo e torno eccomi questo quando ho fatto l'ordine c'era come regalo una full size di un prodotto del sito sempre di nuvole blu come vi dicevo e secondo me Elisa ha il potere magico di capire che cosa ci piace e penso che lei sappia a questo punto che io senza le essence non ci sto stare sapete che vi ho detto più volte che piuttosto rinuncio a un siero perché per me la essence per dare idratazione alla mia pelle è fondamentale è una via di mezzo tra il tonico e un siero questo è veramente molto 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 geloso e molto denso e mi è arrivato in regalo nella full size praticamente è una essence grab water di Huxley 30 ml è un prezioso gel con ingredienti anti età e idratanti come l'olio di semi di fico d'india e l'estratto di cactus assorbe rapidamente e lenisce la pelle allora gli ingredienti sono estratto di fico d'india olio di fico d'india estratti di bambù pompele momenta acido gialuronico e ceramidi mi sembra che siano tutti attivi adatti alla mia pelle misto grassa e becchierella e quindi anche questo sto finendo due essence e lo metterò subito in uso perché sono veramente curiosa di vedere com'è ho ancora un prodotto da farvi vedere come vi ho detto il capitano o meglio mio marito Paolo non è nei regali molto centrato io dunque sono spotata da 25 anni lo conosco da quando avevo 16 anni siamo insieme da quando io avevo 16 anni quindi sono veramente tanti anni in cui noi siamo insieme e lui dovrebbe conoscermi però giustamente dice sono troppe le passioni che hai cambi da una roba all'altra io non riesco a seguirti non riesco a capire cosa ti piace allora io in questi ultimi anni cosa ho cominciato a fare mando degli imputa a Lucia a Mattia a Pietro che li girano a Paolo e così io ho il regalo perfetto che non mi sono fatta io ma che ho aiutato e ragazze sono troppo contenta di questo regalo allora c'erano due scelte ma l'altra profumazione era finita e quindi ha optato su questa che mi piace mi piace tantissimo cioè a parte vabbè allora io io amo i peccaro sapete questa è di un'eleganza con le questa decorazione che sono assomiglia moltissimo alle cellette delle api garlen lo sappiamo è un marchio d'eccellenza d'eccellenza quando sono andata a vedere le creme quanto costavano ha avuto il tono zero sappiate solo che pensavo che fossero 30-40 euro invece era un'altra cosa quindi sono rimasta veramente basita questo sicuramente è il profumo che io ho più costoso ve lo assicuro perché io non ho mai speso così tanto per un profumo però è un regalo di compleanno mio marito non mi fa spesso regali e vi devo dire che questo profumo ah adesso non scendo nel dettaglio perché sto preparando un video sui profumi del momento dove sto andando a ricercare un po' tutte le informazioni però questo lo spruzziamo allora allora la prima cosa che si sente sono molto insieme allora anguria e violetta mamma mia che buono e infatti i le note di testa sono anguria e violetta e si sentono a volte prevale la violetta ma l'anguria si sente il profumo della buccia dell'anguria si sente si sente tantissimo poi c'è fiore d'arancio e gelsomino il fiore d'arancio lo noto meno il gelsomino si sente e di fondo il muschio bianco ed iris io sento in prevalenza i fiori il muschio bianco non lo sento tantissimo ma è mamma mia è uno spettacolo mi ripeto è uno spettacolo il colore la confezione questo è il mio profumo di lusso e mi piace mi piace tantissimo e questo regalo mi è stato fatto da mio marito Paolo che ringrazio anche perché non vede mai i miei video quindi posso dire bene e male di lui senza problemi no posso dire solo bene insomma va bene io non so quanto siamo arrivati se è stato un video corto se è stato un video lungo probabilmente più lungo che corto vi ringrazio tantissimo ho altri regalini da farvi vedere ma ve li farò vedere più avanti perché adesso ho anche un po' di cose vorrei anche provare a testare qualcosa in modo da potervene parlare sto preparando il video dei profumi sto preparando il video dei dieci preferiti e ho sicuramente il video dei finiti da farvi vedere perché abbiamo finito un botto di roba in questo mese un botto di roba quindi vi saluto vi auguro un buon sabato perché oggi è sabato mattina adesso vado a preparare qualcosa da mangiare e nulla che dirvi cercate di star bene godetevi queste bellissime giornate anche se sono calde e ci vediamo al prossimo video a presto e buon fine settimana e grazie ancora di tutto ciao